buonasera dalla redazione di firenze smart studio marco gargini in a1 per un incidente al chilometro 303 ci sono 10 chilometri di coda e blocco della circolazione tra incisa reggello e firenze sud in direzione bologna e 3 chilometri di coda tra firenze impruneta incisa reggello in direzione roma sempre in a1 in direzione bologna tratto chiuso per lavori tra aglio e roncobilaccio fino al 28 febbraio sulla fipili in direzione firenze un chilometro di coda per un incidente al chilometro 62 800 tra cascina e la diramazione per pisa sempre verso firenze code per incidente tra san minato ed empoli ovest rallentamenti tra scandici e firenze scandici rallentamenti tra firenze scandici e la strassigna in direzione livorno e code in uscita alla strassigna provenendo da firenze ed è tutto buon viaggio grazie a tutti